Prenderanno il via venerdì prossimo 1 settembre a San Giacomo Bellocozzo, frazione di Ragusa, i solenni festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lurz. È un rito che torna a ripetersi per i fedeli del quartiere rurale impegnati ad animare le varie iniziative previste dal periodo celebrativo che si concluderà con la festa esterna in programma domenica 10 settembre. Il parroco Don Santo Vitale e i componenti del comitato organizzatore hanno predisposto un fitto calendario di appuntamenti affinché il culto nei confronti della Vergine possa essere rinnovato con la dovuta intensità coinvolgendo anche le comunità delle altre parrocchie rurali del circondario. Nel corso della prima giornata delle celebrazioni l'attenzione sarà rivolta alla confessione degli ammalati e alla comunione. Alle 19 ci sarà la recita del rosario e alle 19.30 la celebrazione eucaristica animata da una delle comunità del territorio, quella di Cristo risorto di Contrada Montesano, con la Santa Messa che sarà preseduta da Don Armando Fidone. A seguire si terrà l'adorazione eucaristica e le confessioni. Sabato 2 settembre è in programma la recita del rosario e la Santa Messa, che stavolta sarà animata da un'altra delle comunità presenti sul territorio, quella della Madonna delle Grazie di Contrada Barco. A presiedere la funzione sarà Don Giorgio Cicciarella. Domenica 3 settembre, poi di mattina, nella chiesetta di Contrada Bello Cozzo, è in programma la Santa Messa in una suggestiva cornice. Alle 11 la celebrazione eucaristica sarà animata dalla comunità del Santissimo Salvatore di Contrada Carbonaro, con la funzione che sarà preseduta da Don Paolo Alescio. Dopo le celebrazioni eucaristiche pomeridiane, l'eventi prenderà il via la diciottesima edizione della Rassegna dei Sapori dell'Entroterra Ibleo, a cura dell'Associazione Culturale Il Telesimo, volta a valorizzare la tipicità gastronomica degli Iblei. A seguire l'animazione e la serata musicale con i diamanti. I festeggiamenti proseguiranno lunedì 4 settembre con la recita del Rosario e con la celebrazione eucaristica delle 19, preseduta dal sacerdote novello Don Filippo Bella, ordinato il 26 marzo del 2017. Quindi, alle 21, spazio al torneo di carte con il gioco della scopa.